Succede che purtroppo le notizie che molto spesso arrivano dal web, che arrivano da dottor Google, hanno indirizzato molti pazienti a richiedere la prescrizione al proprio medico di questo principio attivo che è l'azitromicina, che sicuramente, e lo dicono le linee guida dell'AIFA già dal 2020, in associazione o da solo non ha refluenze positive nei confronti del Covid. Noi ci siamo attivati per questo sammaco scrivendo all'AIFA per confermare l'impatto che le carenze, che peraltro vengono segnalate già dall'agenzia stessa, stanno avendo sul territorio nazionale e abbiamo offerto all'AIFA la nostra piena collaborazione in supporto di una problematica che purtroppo è ormai evidente e l'Italia ne è purtroppo detentrice di un triste primato, quello dell'antibiotico resistenza, per la quale occorre sicuramente un'azione sinergica per orientare il cittadino ad un uso più proprio dell'antibiotico. Ecco, segretario, per chi non lo sapesse, l'antibiotico resistenza è legato al fatto che probabilmente nel corso degli ultimi anni abbiamo preso troppi antibiotici e di conseguenza poi il nostro fisico si è abituato e dunque l'antibiotico non ha più quell'effetto che dovrebbe avere. Ma alla fine questa azitromicina effettivamente ha anche oltre alla medicinale della Pfizer un generico corrispettivo? Cioè sostanzialmente non si trova nulla di questa richiesta che continua ad arrivare? Allora, pian piano la situazione sembrerebbe normalizzarsi, nel senso che sia il brand dell'azienda alla quale lei fa riferimento che i brand di altre aziende, che i corrispettivi equivalenti, e sono tanti, sul mercato della distribuzione farmaceutica pian piano cominciano ad arrivare. Dalle notizie che abbiamo appreso la situazione potrebbe normalizzarsi nel giro di qualche giorno. Purtroppo devo segnalare che non è solo un problema quello della indisponibilità o delle carenze relativo all'azitromicina ma è un problema che riguarda anche altre molecole come l'amoxicillina in associazione con l'acido camulanico, l'acido salecilico in alcune forme, l'alfuzosina, il cefcloro, farmaci che sono assolutamente indispensabili come l'azitromicina lo è nella cura delle patologie relative alle patologie delle prime vie respiratorie e delle patologie polmonari in genere sono indispensabili per la cura di altre patologie. Quindi c'è un problema di approfiggionamento che è più evidente al sud della nostra perimbo. E poi come ha detto lei, ecco segretario, parte è stata colpa del dottor Google piuttosto che del medico di base che magari ha prescritto questa. Senta, le chiedo davvero in pochi secondi. La situazione invece dei tamponi sia molecolariche e antigenici in farmacia si sta in qualche maniera normalizzando, sotto Natale soprattutto c'erano lunghe file, grandi richieste, grandi attese, adesso qual è? Allora, innanzitutto le farmacie non processano tamponi molecolari che sono di pertinenza dei laboratori di analisi. Sì, mi scusi, ovviamente, antigenici ovviamente. Antigenici rapidi. Ecco, la situazione si va normalizzando sotto il periodo natalizio anche per una questione relativa al senso di responsabilità di molti cittadini che prima di recarsi con gli amici, in famiglia, a trascorrere le feste hanno voluto in qualche modo sincerarsi del loro stato rispetto all'infezione da Covid. Oggi le file sono sicuramente diminuite, non c'è un problema di approvvigionamento di tamponi quindi pian piano ci avviamo a una normalità. Fermo il restando, mi permetta quest'ultima battuta che mi augurerei che nelle farmacie italiane non si processassero più tamponi ma si inoculassero tantissimi vaccini.